eccoci qua eccoci qua intenti intenti state intenti a quello che stiamo per dire intenti con la genesa anche se evoluzioniamo subito intenti desideri porre in manifestazione ciò che amate ciò che la vostra anima più ama e più desidera in perfetta accordatura il vostro cuore posso chiudere andare semplicemente quindi alla fine stare in ascolto ciò che la vostra anima sogna e ama e portarlo in manifestazione facendo se aiutare nella genesa come si fa allora come si fa metodo base metodo base bicchiere bello che siamo in cucina non abbiamo un bicchiere capovolto all'interno della genesa di modo che la base sia più o meno a metà della della genesa stessa foglietto bianco non riciclato con dietro lista della spesa stampe di fatture eccetera birro rossa utilizzata solo ed esclusivamente per scrivere questi foglietti quindi intento scritto sul foglietto messo in genesa in modo che rimanga più o meno al centro per tre giorni dopo di che fuoco bruciato bruciato e lasciato un altro elemento l'acqua acqua vento diciamo non è che terra volete balle l'evento più veloce l'acqua è vero anche il vento il vento mentre la terra è più lenta funziona ma è comunque quindi se non avete un corso d'acqua vicina va bene anche il livello della cucina non sarebbe proprio la massima delle situazioni però in teoria dovrà essere di dice a podiani questo non complica non complichiamoci balcone vento ve lo porta via esatto sì oppure filo di cotone tipo stendino esatto altro filo con attaccato il bigliettino che rimane nella pizza di quelle piccoline di legno che si usano per ci stare bigliettini sui regali sempre tre giorni dopo tre giorni brucio tutto tranne la pizza fogliettino e il filo e poi tutto succede quindi metteteci il cuore ascoltate la vostra anima sono cose positive sono cose per voi perché a desiderare per qualcun altro comunque avere un intento per qualcun altro bisogna essere molto attenti perché potrebbe non essere la sua via e se il vicino rumoroso sparisca dalla mia vita no si può dire voglio trovare una casa se l'anno non il voglio voglio avere un voglio mi ha scappato oppure iniziale dicendo grazie di dare la gratitudine grazie 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 perché finalmente il mio vicino ha smesso di far rumore no neanche no perché mettiamo all'intento suo grazie perché finalmente ho trovato una casa silenziosa come si muoverà tutto per fare in modo che non insistete saranno con una ventina non si mette 23 sono come ha detto prima l'universo ve lo fa arrivare poi allora conto totale viaggio approvato va bene quindi metteteci cuore amore sentimento seguitici come per altri consigli perché ogni volta e vogliamo se si fa dicevamo altro tre giorni fa dicevamo altro correo ci diciamo questo perché siamo sempre l'evoluzione per qualunque cosa ci siamo con sui nostri canali il sito www.latuamaestria.com e la nostra e mail la tua maestria caccia la gmail.com il nostro nuovo telefono lo trovate sul sito sul sito pagina l'instagram pagina faccialibro dove c'è la mia faccia c'è sempre la tua maestria grazie grazie grazie